Ciao a tutti, io mi chiamo Clown Didimo e invece i miei compagni sono... Clown Arcobaleno, Clown Gabo. Siamo qui a Piaggio, detto il polmone verde della Bergamasca, più o meno. E siamo qui per fare la visita ai pazienti. Ma vi chiederete voi, ma perché vestiti così? Siamo vestiti così perché siamo Clown di Corsia. Abbiamo scelto di dedicare un po' del nostro tempo alle persone che sono in ospedale e di venire a trovarli. Con il nostro naso rosso che è la maschera più piccola del mondo e che ci aiuta a portare amore e cura alle persone. E niente, siamo qua per loro, per i bisogni che troviamo, per tentare di coprire i bisogni che hanno. Ma quindi chiunque indossa un naso come il nostro può entrare in ospedale? No. Allora, per poter accedere al, diciamo così, alla struttura e diventare clown c'è da fare un corso. Anzi, a questo vi avviso che fra poco inizieremo un corso per poter permettere a chi di voi vuole o ha un po' di tempo da dedicare diventare un po' come noi o comunque far parte della nostra squadra. Anzi, contiamo su di voi. E a questo merito voglio ringraziare l'azienda Bolognini che ci ha permesso di entrare e il dottor Corica che ci ha appoggiato fin dall'inizio sul nostro progetto facendo diventare ormai clown di corsia a tutti gli effetti. Yeee, che bello! Ma serve un tesseramento? Allora, il tesseramento in questi ambienti ormai è d'obbligo. Noi non abbiamo deciso di fare nessuna associazione perché non vogliamo emergere su nessuno. Siamo un sottogruppo dell'Avo di Clusone, i volontari ospedalieri, che ci ha accolto a braccia aperte e in questo modo ci permette di entrare in questa struttura. Oh, che bello! E allora noi intanto siamo i tre, più c'è ancora una persona, si chiama Tiramolla, che però purtroppo oggi non è potuta venire. Siamo soltanto in quattro e veniamo a Piario una domenica al mese. Dopo il corso, durante il corso, speriamo che arrivi tante persone così che riusciremo a coprire magari tutte le domeniche o forse anche tutti i sabati, se siamo proprio in tanti. Ognuno ha la propria famiglia, la propria vita. Ognuno dedica il tempo che riesce a dedicare. Ma sarebbe bello che l'ospedale di Piario diventi veramente un posto vivo e non soltanto un luogo di cura ma anche un luogo, perché no, di gioia. Ognuno ha la propria famiglia Ah, che bello! Abbiamo finito, abbiamo fatto tutto il nostro giro di tutte le brande, di tutti i pazienti. Abbiamo visitato soltanto i pazienti? No, anche gli operatori sanitari, perché anche loro hanno bisogno di un abbraccio. E poi? Anche i parenti dei pazienti. Anche i dottori, anche in pronto soccorso ci siamo stati? Sì, purtroppo abbiamo trovato sempre qualcuno. Sì, però abbiamo trovato anche tante gente che nella sala d'attesa del pronto soccorso, intanto che aspettava il loro caro, era molto agitata. E noi non possiamo fare grandi cose, ma possiamo cercare di stemperare tutta questa ansia, giusto? Certo, e non serve tanto. Serve un abbraccio, una pacca sulla schiena, uno sguardo. Non serve tanto. E allora abbracciamoci anche noi. Ciao!